amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati prima di presentare il nostro ospite del sabato che comunque vedete già qui di fianco a me desidero ringraziare e dare il benvenuto ai nuovi abbonati su patreon e ringrazio per le libere donazioni di questi giorni e ringrazio mario guido davide giuseppina tania mauro e raffaella allora è una puntata gabriele intanto benvenuto ciao carlo gabriele sannino ben ritrovato allora questa è una puntata che è in sintonia con le feste e feste natalizie di fine anno dell'epifania in questa puntata cercheremo di portare magari delle nuove comprensioni perché è importante riscoprire le radici perché bert ulsemer diceva che senza radici non si vola e allora cerchiamo di portare nuove comprensioni di riscoprire le nostre radici a fronte della globalizzazione che le radici invece ce le vuole togliere sta cercando in tutti i modi di togliercele gabriele veniamo alla al tema e che senso ha il natale oggi soprattutto dopo gli ultimi anni sì carlo intanto dobbiamo dire questo che il natale è una festa di luce è una festa di luce perché è una festa pagana che si riferisce al culto solare il sole dell'emisfero boreale lo sappiamo benissimo il 21 dicembre al suo minimo storico dopo tre giorni in cui il sole è statico ed è minimo quindi all'orizzonte a un certo punto il 25 comincia a risalire l'orizzonte quindi una festa di luce perché appunto il sole ricomincia nell'emisfero sempre boreale che è quello più antico più popolato più conosciuto comincia la sua scalata e quindi ecco che in pratica è una festa della luce perché si ferisce al sole bisogna dire questo bisogna dire che l'albero di natale per esempio un simbolo perché la natura si rigenera e quindi ecco perché mettiamo gli alberi di natale con le luci decolate eccetera e anche una festa religiosa perché la chiesa cattolica l'ha presa e la festa della nascita del profeta gesù che è una figura che comunque voglio dire piaccia o non piaccia che sia esistito non sia esistito ha dato dei messaggi molto illuminanti all'umanità proprio dal punto di vista spirituale qui siamo oltre la religione con i messaggi di quel profeta quindi questo io direi piaccia o non piaccia ripeto i messaggi sono veramente illuminanti detto questo il natale che senso ancora oggi è una festa che dovrebbe farci riflettere su che tipo di società noi siamo diventati e su sul tipo di società che dovremmo essere a mio avviso perché comunque il natale dovrebbe essere questo dovrebbe essere un periodo in cui le persone si fermano un attimo visto che la globalizzazione non ti dà scampo e visto che la società del caos non ti dà scampo si fermano un attimo e o in compagnia o da soli fanno un po il punto della situazione fanno qualche riflessione cominciano un attimino ad avere quel minimo di tempo per poter riflettere e per poter come dire guardare le cose sempre dall'alto che è quello che ti permette sempre di insomma di avere la visuale più ampia e noi dobbiamo capire questo che siamo una società veramente primitiva involuta siamo una società governata dal denaro creato da nulla siamo una società delle guerre passate per operazioni di pace siamo una società delle armi della conflittualità a tutti i livelli siamo una società delle basse vibrazioni come rabbia invidia dolore rassegnazione negatività inoltre tutto questo è la negatività la società si nutre di negatività basti e tutti ci nutriamo di questa negatività basti pensare nella negatività dei telegiornali di della musica anche oggi di film quindi la gente è abituata a correre come i matti e non pensare a niente a competere su qualsiasi cosa e a criticare qualsiasi cosa quindi vivere in questo modo in preda ripeto alla al caos alla negatività in preda alla competizione e alla critica costante naturalmente non è salutare per nessuno poi noi oggi abbiamo uno strano concetto di libertà perché siamo liberi fin quando non la pensiamo come regime dominante altrimenti non siamo più liberi addirittura pensiamo che i diritti costituzionali siano condizionati alle emergenze di turno e c'è sempre un'emergenza perché comunque siamo la società dell'emergenza poi a seconda dell'emergenza ti possono anche sospendere i diritti e va sempre bene quindi è un dobbiamo cambiare radicalmente carlo il natale potrebbe essere un'occasione oggi tantissime persone vivono anche da sole cioè magari non hanno non si incontrano neanche coi parenti quindi il natale potrebbe essere un'occasione di questo tipo gande diceva sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo in effetti è questo perché noi dobbiamo cambiare noi per poter poi dopo cambiare minimamente la società altrimenti non ha senso non puoi aspettarti sempre il cambiamento dagli altri e tu non fai niente per cambiare devi tu dare l'esempio sempre devi tu dare degli input poi lo switch che bisogna fare carlo e dalla dalla paura all'amore perché siamo la società della paura no dalla paura all'amore perché l'amore una vibrazione più alta io quest'anno ho scritto un libro su questa cosa che è l'amore un giorno alla volta abbiamo anche presentato lo vediamo qui in sovraimpressione per il ciliegio edizioni l'amore un giorno alla volta eccolo qui grazie e in questo libro io ho parlato proprio di questo che tutto parte dall'amore per te stesso l'amore per te stesso non è che tu vai in palestra o che la nuova macchina o che la bella casa l'amore per te stesso è quando tu affronti le tue paure è quello l'amore per te stesso quindi ti liberi da quelle paure e a quel punto eliminando la paura automaticamente accresci in amore e quindi ecco che insomma puoi portare questa questa scintilla tua rinnovata nella nella coppia nella famiglia nella società perché altrimenti si è delle delle fotocopie delle fotocopie delle repliche siamo siamo molti di noi sono delle fotocopie dal punto di vista dal punto di vista vibrazionale insomma poi l'amore è la forza primigenia è quella della sorgente quindi voglio dire la sorgente energetica che nutre tutte le cose dovremmo capire anche questa cosa dal punto di vista spirituale tra l'altro anche la nostra scienza carlo ci è arrivato ci è arrivata nel senso che oramai è chiaro che il campo elettromagnetico del cuore è molto più potente del campo elettromagnetico della mente quando ti dicono quando ti dicono che quindi devi mettere da parte il cuore devi soltanto vivere con la mente che è piena di paure del sistema ti stanno ammazzando perché tu stai riprimendo il campo energetico più forte che hai quindi la soluzione è proprio unire il cuore mente perché altrimenti stai male altrimenti vivi male e noi siamo una società che siamo una società senza cuore cioè a parte l'ipocrisia il buonismo ecco che in questo periodo poi dopo si ci sono anche ce ne sono anche tante ma a parte questo noi siamo veramente una società che riprime il cuore quindi c'è una ripressione proprio animica delle persone e questo naturalmente non può che farci male senti gabriele il il sistema è contro le radici no delle persone radicamento no e possiamo dire in questo senso che il sistema è anche contro il natale che nella tradizione cristiana è una delle ancore diciamo no principali guarda io noto ad esempio anche molte persone stanno proprio introiettando anche nel modo di augurarsi no e di farsi gli auguri per le festività perché anche nelle formule poi pubblicitarie comincia si legge sempre più spesso una formula tipo buone festività di stagione ecco il termine buon natale poi magari in certi casi viene aditato come possibile discriminante verso altre altre religioni verso altre etnie quindi non considerato non non opportuno abbiamo visto già gli anni scorsi anche nei presepi no che hanno figura addirittura di alieni di di persone simila robotiche nel vaticano stesso voglio dire san pietro quindi è contro il sistema è contro natale il sistema si carlo tutto quello che detto è correttissimo nel senso che oggi noi viviamo in questo mondo all'incontrario dove con la scusa della discriminazione in realtà si vuole cancellare un po tutto no perché la discriminazione sempre la scusa il pretesto e quindi si può cancellare anche il natale il natale ripeto nasce come festività pagana è diventato una festività religiosa in cui si ricorda la nascita del profeta però finisce la è diventata una festa consumistica in realtà dovrebbe essere una festa spirituale che ci ricorda che dobbiamo accrescere la nostra luce interiore quindi accrescere il nostro amore questo è il senso del natale quindi c'è il vivere col cuore il famoso vivere con il cuore insomma di cui parlavamo anche prima il natale infatti una festa spirituale la natura che si rinnova l'anima che si rinnova e la nostra luce che si può rinnovare per quanto riguarda la cancellazione del natale è evidente che quest'elite voglia farlo basti pensare per esempio a questo l'ha riportato da gospia che l'università di brighton recentemente ha consigliato alle persone di non dire natale ma periodo di chiusura invernale un po quello che dicevi anche tu perché insomma è politically correct in questo modo e addirittura ha detto che il termine natale molto cristiano centrico bisogna rispettare tutte le religioni e quindi insomma questa cosa non va bene addirittura l'università di brighton ha suggerito alle persone di non dire qual è il tuo nome di battesimo perché questo termine può essere offensivo ma qual è il tuo nome quindi con questa scusa della discriminazione in realtà si sta si sta facendo ben altro perché poi sappiamo anche i loro culti le loro cose quindi voglio dire entriamo in un campo che è molto molto esoterico e molto oscuro ad ogni modo nel 2021 la commissione europea non so se vi ricordate ma lancia messo nero su bianco una comunicazione ufficiale inclusiva che si chiamava european commission guidelines for inclusive communication dove non soltanto vietava di parlare di poliziotti al maschile operai soltanto al maschile eccetera ma evitava anche di di diceva le persone di non dire mister o mistress perché anche questo era era anche i generi sono per loro insomma offensivi addirittura di non dire nei discorsi signore e signori ma cari colleghi ecco e dulces in fondo per quanto riguarda il natale la commissione europea suggeriva di non dire natale ma periodo di vacanze e raccomandava anche qua di non usare nomi troppo cristiani tipo maria tipo giovanni tipo giuseppe la cancel culture proprio all'ennesima potenza proprio in esatto loro se potessero eliminerebbero non soltanto tutto ciò che cristiano centrico ma tutto ciò che è spirituale evolutivo perché in realtà è questo che fa paura la spiritualità che fa paura perché poi la religione come sappiamo reprime un po la spiritualità anzi reprime molto la spiritualità quella quella delle religioni convenzionali quindi loro se potessero cancellerebbero completamente tutto ciò che è spirituale ad ogni ma infatti lo tentano di farlo con la tecnologia ad ogni modo siamo la società del finto rispetto no dell'ipocrisia assoluta è questo il punto poi c'è insomma ripeto come ho detto prima siamo la società delle guerre passate per operazioni di pace dell'inviare le armi per fomentare le guerre va tutto bene cioè siamo una società veramente folle perché non viviamo una società senza cuore che vive soltanto della mente con le paure della mente addirittura poi si nutre di propaganda quindi pensate mente propaganda senza cuore pensate quindi la la combinazione e il sistema è contro il natale perché il natale come accennavo prima può essere un'occasione di miglioramento e di introspezione per le persone le persone magari si riuniscono le famiglie magari le famiglie ma molte non vanno d'accordo ma magari alcune vanno anche d'accordo pure molte persone comunque ripeto si fermano dal lavoro hanno tempo per pensare un po di più eccetera e quindi il natale è un problema per queste persone un problema perché l'umanità per loro non deve fermarsi e non deve soprattutto pensare perché il pensiero a loro fa paura il sistema preferisce delle feste tipo halloween che sono anche piene di connotazioni esoteriche oscure insomma e che comunque è un divertimento particolare quello ad ogni modo un certo martin selingman che è uno psicologo statunitense lui a lui parla di dice delle cose interessantissime infatti invito i nostri ascoltatori a fare ricerche su di lui lui parla del fatto che l'umanità è negativa non soltanto perché introietta sempre questi valori negativi ma anche per impotenza presa ovvero l'educazione la religione i modelli economici ci hanno depotenziato fino a farci deprimere a pensare che non possiamo fare più niente anche nella nostra vita quotidiana e invece non è così lui parla di proattività dobbiamo essere proattivi il natale può essere un'occasione per essere per diventare per proporre per per proporsi anche di essere proattivi essere proattivi che vuol dire vuol dire fissare dei piccoli obiettivi di miglioramento anche personale magari prendersi un po di tempo per se stessi anche non soltanto natale ma anche durante l'anno un giorno di ferie ogni tanto in cui pensiamo a noi stessi in cui ci concentriamo su noi stessi in cui facciamo un po delle riflessioni facciamo un po il punto anche della nostra vita e lui parla infatti di responsabilità lui dice che nella vita non puoi cambiare le spighe che ti arrivano oppure non puoi cambiare le insomma le cose negative che ti arrivano però può cambiare l'atteggiamento che tu hai nei confronti di queste cose ecco la responsabilità quindi veramente martin seligman è un veramente una una persona illuminante da questo punto di vista e il sistema come sappiamo carlo è fatto di catene invisibili per cui la verità è che noi siamo comunque liberi anche se all'interno di un sistema prigione siamo comunque liberi di di viverci al meglio ecco quindi questa può essere un'occasione ripeto queste feste possono essere un'occasione queste feste possono effettivamente essere un'occasione e fra pochi giorni noi entreremo nell'anno nuovo gettiamo uno sguardo e sulla sull'anno nuovo Gabriele cosa prevedi per il 2023? Carlo io prevedo tante cose per il 2023 ti dico la verità credo che sarà un anno molto forte da questo punto di vista è anche abbastanza facile prevederla una cosa del genere ma adesso entriamo nel dettaglio sì sarà un anno in cui si continuerà intanto l'esposizione di questa elite di tutti i suoi accoliti del deep state quindi insomma gli ingenui teledipendenti quelli che si nutrono di propaganda e di paura del sistema veramente rimarranno molto male anche perché le loro certezze si stanno sgretolando giorno dopo giorno nel 2023 crolleranno definitivamente ci saranno nuove esposizioni sicuramente in politica politica internazionale in economia nel vaticano addirittura ci saranno anche su temi più esoterici e più e più oscuri per esempio il caso balenziaga di cui parleremo nelle prossime puntate a sta svelando anche i vizi occulti di questa elite poi ci sono i twitter files di cui parleremo anche anche di questi che stanno che scartineranno i media i twitter files scartineranno i media perché verrà fuori tutto quello che i media non hanno detto perché twitter ha la base comunicativa di questo deep state lo è sempre stata inoltre bisogna dire che prima di avere un nuovo mondo il vecchio deve crollare e il 2023 a mio avviso sarà un anno in cui il vecchio crollerà crollerà magari non completamente ma crollerà alla grande perché perché diciamo le strutture che lo reggono non stanno più in piedi e non stanno più in piedi per 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 tutto per tutti i punti di vista per esempio io sono convinto che assisteremo nonostante zeleschi sia andato adesso in america al congresso a fare il suo show noi assisteremo alla fine della guerra perché perché dico questo perché la natura mai si sta rendendo conto che giochi sono finiti addirittura mancano i soldi per finanziare quella guerra perché la la criptovaluta ftx che insomma finanziava anche tutto quello non soltanto i broghi dei dem è crollata quindi io sono convinto che assisteremo anche a una alla fine della guerra o un escalation globale ma nessuno la vuole un escalation nucleare o alla fine di questa guerra io sono convinto che arriveremo a questo molto importante che ci sarà anche l'inizio ufficiale del qfs a mio avviso perché ormai ci siamo anche su quello che nascerà dai brics come ho sempre detto e per quanto riguarda i brics dobbiamo dire questo carlo che i brics in questa quest'anno hanno intessuto la rete cioè pensiamo a tutti i paesi che insomma hanno chiesto di aderire a questo brics tutte le valute stanno recuperando sovranità perché piano piano si stanno sganciando dal dollaro quindi non c'è gli stati non stanno più prendendo i dollari per le loro per le loro riserve internazionali perché si scambiano i prodotti con le loro rispettive valute e quindi addirittura xi jinping ha ucciso il dollaro lo ha proprio ucciso con il petro one quando ha detto ai sauditi ha detto adesso voi mi date il petrolio e io vi pago in one non vi pago più in dollari quindi è normale che una volta che in tessuto la rete a quel punto puoi far crollare il sistema quindi io il 2023 lo vedo una come un anno del genere in cui in tessuta la rete il sistema a quel punto crolla quindi veramente ci può ci aspettiamo di tutto a mio avviso cioè proprio ma di tutto e di più io mi aspetto anche insomma e poi vedremo il crollo dell'amministrazione biden che un'amministrazione fantoccio in realtà comanda comanda comandano ben altre persone comanda l'alleanza a mio avviso e inoltre mi aspetto anche un crollo dell'unione europea adesso io non so questo crollo come avverrà se gli stati recupereranno subito sovranità ma mi aspetto un crollo anche di quest'unione europea perché oramai è un mostro dai piedi di argilla che non sta più in piedi da nessun punto di vista se pensiamo che neanche più la germana la germania conviene stare nell'euro vista delle sue crisi e visto tutto quello che sta accadendo la fine della moneta fiat è alle porte visto che dal 31 gennaio le banche potranno emettere moneta legata all'oro vista le regole di basile a tre e quindi la fine della moneta fiat è alle porte e quindi sarà un anno veramente emozionante quindi quello che noi dobbiamo fare è restare centrati perché comunque io dico io dico sempre che la vita è equilibrio e ogni eccesso porta sofferenza quindi dobbiamo rimanere centrati e aspettare questo crollo del sistema che avverrà difenderci nel nostro piccolo magari insomma tenendo una riserva di contanti in casa magari stampando gli estratti conto del conto per tenere conto della situazione che abbiamo insomma di soldi virtuali cercando di fare magari anche un po di provviste nel caso in cui insomma c'è un periodo un po convulso però io mi aspetto tutto questo inoltre l'importante è che io dico sempre la maggior parte resterà delusa carlo da tutto quello che è accaduto perché insomma la maggior parte ha perso questa guerra ecco cioè se pensiamo insomma la psicopandemia e quant'altro e io dico a questa maggioranza che nella sofferenza si cresce inutile non guardare alla sofferenza è inutile insomma vivere questa sofferenza la sofferenza deve essere un'occasione per la maggioranza che ha creduto a quest'elite di crescere di migliorarsi perché conformarsi vuol dire essere infelici conformarsi a questo sistema poi sono tutte pseudocertezze che ti dà il sistema perché è un sistema senza sostanza c'è soltanto apparenza non c'è sostanza è una società senza sostanza ma solo apparenza è una società infelice lo è la nostra nostra è una società infelice quindi bisogna 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 a mio parere insomma rendere la sofferenza cosciente in modo tale che questa maggioranza che è accaduto a quest'elite la smetta di guardarla con occhi sognanti e finalmente riesca a insomma a pensare rimanere comunque fondamentalmente centrati in se stessi per non subire o peggio ancora farsi travolgere dalla dagli eventi che avvengono e che avverranno nel corso del 2023 senti un anno nuovo inizia con sempre con l'epifania ovviamente che tra l'altro è una parola greca è formata da un prefisso e da un verbo e significa praticamente rivelazione manifestazione ecco cosa si sta cosa si sta rivelando cosa si sta manifestando cosa sta apparendo gabriele sta apparendo un sistema malvagio sempre più il sistema sta diventando ma è già malvagio noi lo sappiamo che è malvagio perché insomma quello che è stato fatto con i sieri insomma lo vediamo e quindi lo stanno vedendo sempre più persone quindi sistema si sta rivelando nella sua malvagità che è totale e deve essere così perché tutti devono vedere minimamente altrimenti ostacolano anche il cambiamento e per esempio l'unione europea io credo che sia un'istituzione malvagia perché insomma non soltanto aborigine non è democratica in quanto abbiamo sempre detto la commissione europea insomma non è eletta dal popolo è quella che fa le leggi il parlamento europeo invece è quello eletto dal popolo ma non risponde neanche più al popolo visto tutto quello che sta accadendo ma l'unione europea per esempio fa finta di non sapere che capital research che l'azienda di investimenti statunitense più grande più vecchia del mondo ha utilizzato i fondi di soros per truccare anche elezioni europee quindi oramai veramente l'unione europea è l'aberrazione totale ma addirittura non fanno finta di non sapere che il world economic forum ha incaricato ha proprio imposto al parlamento olandese di fare tutto quello che serve per l'agenda 2030 quindi oramai un parlamento che non conta più ma non soltanto quello olandese il catar che sta corrompendo i parlamentari europei in realtà il catar volentara di brics quindi è quello il vero motivo per cui c'è tutto questo la wonderlion che addirittura nasconde le comunicazioni con la pfizer cioè non nasconde delle comunicazioni così importante sulla salute dei cittadini europei quindi è veramente un'istituzione malvagia che è il simbolo visto che noi siamo in europa è il simbolo della malvagità di questo sistema e noi ripeto assisteremo quindi alla manifestazione dei poteri per quello che sono e quindi questa la vera epifania e va bene così e questo farà crollare moltissime pseudo certezze delle della maggioranza inoltre anche in america ci siamo all'epifania cioè molte cose si stanno rivelando basti vedere fauci sotto torchio fauci è stato interrogato per il lockdown le mascherine per tutto quello che ha fatto e non ha saputo citare uno studio scientifico credibile per tutto quello che lui è stato il capo mondiale della gestione di questa psicopandemia la pfizer che è sotto torchio ovunque e che ha ammesso addirittura che i sieri non non servivano per per insomma per risolvere la situazione quindi quello che stiamo vedendo è veramente la manifestazione la rivelazione dell'intero sistema ripeto va bene in questo modo e ricordiamoci che questa cara una guerra di coscienza questa anche una guerra spirituale qua torniamo anche al natale questa è una guerra spirituale una battaglia spirituale vibrazionale ovvero in pratica solo chi ha una certa vibrazione ce la fa altrimenti rimane indietro e quindi noi siamo nella grande transizione nella grande speciazione e a mio avviso addirittura paradossalmente il virus è la metafora perfetta per la fine del sistema perché l'intero sistema è un virus l'intero sistema è un virus che uccide tutti a prescindere anche se in realtà il covid sappiamo che cosa faceva ma il virus è proprio la metafora perfetta e quindi ci vuole una cura che a mio avviso insomma avverrà noi continuiamo a essere continuiamo a fare i criceti a essere felicemente infelici in realtà io penso che più aumenteranno queste rivelazioni e più capiremo molto non soltanto del sistema ma anche di noi stessi sì quindi un'epifania particolarmente importante all'inizio del 2023 perché servirà perché arrivi il un cambiamento occorre che occorre proprio l'epifania di della della del vecchio mondo quindi che si manifesti in maniera chiara e percepibile a tutti a tutti coloro che hanno voglia oltretutto hanno la buona volontà di volerlo di volerlo vedere siamo ci avviamo ci stiamo avviando alla conclusione di questo nostro ultimo appuntamento per il 2022 caro gabriele e caro ascoltatore che stai guardando questa intervista voglio ricordarti che il vaso di pandora può vivere solo grazie alle tue donazioni se pensi che il lavoro che stiamo facendo ogni giorno da quattro anni a questa parte è importante e utile per la tua informazione e meritiamo il tuo sostegno allora supportaci con la tua donazione abbiamo per te due possibilità per sostenerci il bonifico bancario libero oppure puoi abbonarti al vaso di pandora con la piattaforma patreon il tuo supporto è fondamentale per esistere per far evolvere il nostro canale il vaso di pandora nel testo qui sotto trovi i link di riferimento per scegliere come sostenerci caro gabriele allora ti auguro buon natale buon buon inizio di 2023 visto che come dicevo è questo è il nostro ultimo appuntamento per il per il 2022 ma l'hai già anticipato apriremo anche noi con con te con degli argomenti estremamente interessanti con i twitter files che so che stai approfondendo stai studiando in questo periodo e e altro ancora parlato di balenziaga e quindi ci stiamo riferendo a e ci stiamo riferendo anche al mondo culto di quest'elite no al caso balenziaga e per il gender è tutto collegato quindi anche quello dobbiamo mettere insieme i puntini ecco partiremo molto bene con con l'anno nuovo con il primo sabato del 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 nuovo anno parleremo l'anticipo questa volta l'anticipo di twitter files quindi a meno che non succeda qualcosa di particolare nel frattempo legato proprio al momento ma dovrebbe essere una puntata di dove appunto stai molto studiando grazie grazie ancora e buone feste a te caro gabriele buon natale buon anno a tutti voi grazie buon e buon natale buone feste a tutti voi ma noi ci vediamo la settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti